Bentornati, vi ringrazio per essere presenti al settimo tavolo di lavoro, come sempre organizzato dal Veritoriale e dalla rivista Hacer. Due parole prima naturalmente di passare la parola ai nostri ospiti. Prosegue intanto il nostro approfondimento, come ben sapete, alla ricerca di un nuovo modo di intendere la pianificazione, la progettazione e la manutenzione del verde in ambito urbano, in un momento, almeno ancora critico possiamo dire, legato all'emergenza coronavirus, anche se siamo entrati nella fase 3. Oggi affrontiamo il tema della manutenzione differenziata del verde, con particolare riferimento ai tappeti orbosi, ovvero i prati, che penso ad interpretare il pensiero di molti. Potremmo definire un po', anche se un po' semplicisticamente, come la cenerentola del verde pubblico e privato. Non è un segreto per nessuno che le pubbliche amministrazioni si devono risparmiare, risparmiano spesso sul numero di tagli all'anno. E non è un segreto che ancora oggi, in fondo, non è compreso fino in fondo il loro valore ecosistemico, ne esiste una diffusa competenza specifica sulle scelte vegetali da fare per garantire i risultati attesi. Eppure i prati rappresentano la maggiore superficie a verde in città. Quindi, porsi le domande di come gestire queste ampie superfici, con quali criteri, con quali finalità, è d'obbligo. E ho ripreso quindi, mentre mi organizzavo per questo tavolo, ho ripreso alcune domande che avevamo già inquadrato in un convegno di due anni fa a MyPlant & Garden, dedicato proprio al prato, che sono ancora validi e sono ancora attuali. Ovvero, le novità introdotte dal Piano d'Azione Nazionale prima e oggi dai CAM, indicano effettivamente la strada per una nuova ricetta di prato urbano e gli attori della filiera verde sono preparati alle nuove esigenze di prati a bassi input? A queste domande risponderanno i tre relatori di oggi, che per chi è del settore sono tre punti di riferimento, soprattutto per molti giardinieri, grazie alla loro storia, grazie alla loro esperienza, ma non solo. Faccio presente alla platea che, come per i precedenti incontri, avete la possibilità, nel corso dell'esposizione, di mettere in chat eventuali domande o riflessioni, che poi, naturalmente, nell'ultimo quarto d'ora verranno condivise e girate ai nostri ospiti. Allora, a questo punto ve li presento. Nell'ordine sono Massimo Mocioni, dottor agronomo, consulente federazione italiana Golf e docente scuola nazionale Golf, membro del comitato di redazione di Hatcher. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te. Segue Riccardo Dalfiume, dottor agronomo, esperto di tappeti erbosi. Buongiorno Riccardo. Buongiorno Graziella, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie. A te. E Paolo Stefanoni, dottor agronomo, general manager di Barenbrughe Italia. Buongiorno. Ciao Stefano, ciao Paolo. Scusami. Pronto? Paolo, non ti sentiamo, forse hai il microfono disattivato, può essere? Qualcuno mi sa dire qualcosa? Paolo? Eccovi, eccovi. Buongiorno a tutti, scusate. Inconveniente, ma è normale in queste cose. Non c'è problema. Buongiorno a tutti, grazie a tutti della presenza. Perfetto, grazie, grazie a te. Allora, comincerei con dare la parola a Massimo Mocioni. Massimo, riprendendo la riflessione di prima, cioè quella in cui dicevo che i prati sono sostanzialmente la cenerentola del verde urbano, ma con l'augurio ovviamente che possano ritornare al centro dei vari progetti, scusami, di riqualificazione del territorio, nei quali possono esplitare tutte le loro numerose funzioni. In che modo ti immagini debba riprendere la cura delle prati nelle aree verdi urbane per rispondere alle misure di contenimento del contagio? E inoltre, considerando la tua specializzazione in ambito sportivo, ritieni che la sospensione delle attività agonistiche influirà sulla corretta manutenzione del prato sportivo? A te la parola. Sai che hai in circa una decina di 10-15 minuti e quindi a te la parola. Grazie mille, Graziella, grazie dell'invito a parlare. Devo un po' introdurre anche il discorso rispetto a tutti gli altri, per cui lascerò poi una parte delle domande che mi hai fatto, magari le dividerò anche con gli altri relatori che seguiranno. Nel cappello introduttivo che avevi fatto però avevi già parlato di alcune cose che avevano già un po' sconvolto e cambiato la gestione del tappeto erboso, a cui pensavamo di non sapere come fare ad affrontare. L'idea del PAN, del piano d'azione nazionale, all'introduzione aveva spiazzato un po' tutti, perché nessuno pensava, oddio come faremo adesso, prima avevamo pochi prodotti, adesso non abbiamo proprio più nessuno, come facciamo a gestire i prati, ci si ammaleranno tutti, sarà tutto da buttare via. Con gli anni, col tempo, perché ormai era dal 2014 che va avanti questa cosa, abbiamo imparato che forse non serve solo la chimica per gestire un prato, un bel prato, serve anche una buona capacità e una buona conoscenza del prato, capire che il prato è una cosa da gestire, un ecosistema da gestire abbastanza complesso, non è soltanto il fatto di tagliarlo una volta ogni tanto. Quindi abbiamo riscoperto tutto quello che magari facevano i nostri più vecchi manutentori, e quindi le pratiche agronomiche, quindi la gestione anche di sistemi alternativi di difesa, rinforzare il prato, la concimazione organica che è stata riscoperta, cioè tutta una serie di tecniche gestionali che si erano un po' perse, perché si si affidava molto di più alla chimica che a quello che era la gestione e la capacità delle persone. E adesso si è presentato il Covid, il Covid che ci mette di fronte a una necessità, anche per ragioni di budget, soprattutto anche nel discorso sportivo, di abbassare l'intensità manutentiva, cioè cercare di avere un buon risultato senza spendere troppo, fondamentalmente questo che ci ha richiesto il Covid, perché almeno nel settore sportivo c'è stata cassa integrazione, ci sono stati tutta una serie di problemi gestionali delle squadre che hanno contribuito a dover per forza di cose ridurre l'intensità manutentiva. Però abbiamo visto che anche in questo caso, se si sono fatte le scelte giuste, il fatto di abbassare l'intensità manutentiva non implica per forza una bassa qualità del prato. Cioè, l'abbassare l'intensità della manutenzione, ci siamo accorti che a maggio i nostri prati erano tutti belli, anche se avevamo fatto meno di quello che normalmente in questo periodo dell'anno si fa. mi diranno i miei colleghi, anzi, l'avranno già pensato tutti, è a maggio normale che il prato sia bello. Non è molto difficile avere un prato bello a maggio. Sì, però uscivamo anche da una stagione invernale che non era proprio l'ottimale. Ha piovuto poco, ha piovuto molto a fine dell'inverno, insomma una stagione un po' particolare. Eppure siamo riusciti a portare dei prati di buona qualità, ad avere una buona qualità senza avere una forte intensità manutentiva. e quindi il fatto che stiamo migliorando anche come capacità direzionali, come scelte operative, come scelte tecniche, ha permesso di anche avere un buon risultato con una minore intensità manutentiva. Quello che ci pone di fronte al Covid adesso è anche un corretto uso delle risorse. Cioè, noi non possiamo buttare via materiale, e questa è una cosa che anche gli altri relatori da sempre abbiamo condiviso, insomma, come idea. Le fertilizzazioni vanno mirate, adesso ci sarà poi anche, magari legato al CAM, il problema della gestione dell'acqua, che sarà il problema successivo nella gestione dei prati. Per cui, ecco, la fertilizzazione mirata, le tecniche alternative, l'impiego di stimolanti, eccetera, saranno tutte delle pratiche da gestire con correttezza e con parsimonia, con oculatezza. Questo però richiede una maggiore professionalità, una maggiore capacità, da parte di tutti, di far questo. E quindi si parte da una scelta ottimale nell'uso delle risorse, delle specie da tappeto erboso, una scelta ottimale delle strategie agronomiche da adottare, una scelta ottimale dei piani, di fertilizzazione dei piani gestionati del tappeto erboso che dovremmo fare. Se devo dire, ci sono molta volontà da parte di chi fa manutenzione di raggiungere questi obiettivi. La sensibilità ambientale, trovo che anche in un settore come quello del golf, che normalmente è stato preso come la parte negativa della gestione del tappeto erboso, nel senso che forziamo molto tutte le manutenzioni, la sensibilità ambientale è sempre di più aumentata. Manca forse un appoggio di tipo più istituzionale, manca una ricerca universitaria, manca una ricerca di nuovi sistemi. Adesso stavo in questo periodo di coronavirus, studiavo perché volevo fare un articolo e ho trovato la bibliografia sulla difesa ed è molto americana, classica, statunitense, però sta andando fortissimo a Corea, ad esempio. Ci sono moltissime pubblicazioni coreane che lavorano molto su strategie alternative di difesa. Quindi, ecco, noi siamo restati un po' indietro. Il vaccino del Mediterraneo sarebbe un ambiente ottimale per poter fare ricerca, perché abbiamo tutte le condizioni possibili e immaginabili per gestire il prato con più o minore difficoltà. siamo proprio la classica zona di transizione in cui tutte le specie da tappeto erboso stanno bene, ma nessuna sta benissimo. Quindi, università, ricerca e formazione, anche in questo caso la formazione è un fattore che manca e che sarebbe da spingere e portare molto avanti. E poi manca anche un'attenzione dei prati, che l'avevi già accennato tu nell'introduzione, Graziella, per quanto riguarda il settore pubblico. Cioè, una cosa che il Covid ci ha fatto vedere è che siamo animali sociali, abbiamo bisogno di socialità, di trovarsi insieme. E non me ne vogliono i miei amici dottori forestali, però cosa fa socialità in un parco? È il prato. Cioè, bisogna straiarsi sull'erba. Io, ben presente, gli inglesi che escono la sera, al venerdì sera, con loro la bottiglia di vino, la bottiglia di birra, vanno sul prato, si siedono lì, finito di lavorare, si premono una birra insieme. Quello fa socialità. E quindi, un prato tagliato quattro volte all'anno, non è un prato. Non è un prato. Non è una cosa che ci permette di avere una vita sociale all'interno del prato. Adesso, girando per Torino, che ha comunque un'ottima manutenzione del verde rispetto a tante altre città italiane, ci sono angoli che potrebbero essere questo verde diffuso, di cui si è parlato anche negli altri tavoli di lavoro, totalmente abbandonati, con erbe molto alte, panchine coperte da... E secondo me, riscoprire questi piccoli angoli di verde in tutti i quartieri della città con una manutenzione corretta del prato che c'è all'interno, anche lasciata all'iniziativa popolare, non so bene come fare, potrebbe essere uno strumento buono per rivalorizzare dei piccoli angoli di verde all'interno e rivalorizzare un tappeto arboso. Grazie mille. Io dovrei essere più o meno stato nei tempi che mi sono stati dati. Poi riparleremo nel caso in cui... Va bene. Grazie. Bene, sì, sì, sei stato nei tempi, ti ringrazio, ma poi avrai modo sicuramente di intervenire di nuovo. Intanto una domanda, una curiosità, visto che parlavi di un eventuale articolo, non è per Acer, o è per Alpe, spero di sì, naturalmente, perché... Lo pensiamo, lo pensiamo insieme, lo pensiamo insieme. Perfetto, grazie. Poi è toccato dei temi che adesso rigiro ovviamente a Riccardo, come ad esempio hai parlato di corretto uso, mi sono segnati, corretto uso delle risorse, della necessità di una maggiore professionalità, di una maggiore competenza. Ed ecco quindi, Riccardo, che arriviamo a te. Intanto, Riccardo, con te sei bene che condivido l'apprezzamento per il professor Stefano Mancuso, che è già stato citato nello scorso incontro dal dottor Buizza. Bene. Allora, Riccardo, si parla molto appunto di manutenzione differenziata ed ecologica del verde, ne parlava prima anche Massimo. Rispetto ai tappeti erbosi, quindi ai prati in ambito urbano, ci puoi dire che cosa significa in concreto? E, sulla base della tua esperienza, in un'ottica di possibile riduzione delle risorse economiche, la manutenzione differenziata ed ecologica, che cosa comporta? Una maggiore presa di coscienza dell'importanza della biodiversità in ambito urbano o il rischio, come quello che ha appena sottolineato adesso Massimo, di avere un'area verde a prato che sembra degradata e in uno stato di abbandono? A te la parola. Grazie, Graziella. Rinnovo i complimenti a voi, al tuo staff. Io ho seguito qualche tavolo precedente e devo dire che tu sei sempre umile e dici sempre nel nostro piccolo. Nel vostro piccolo siete riusciti a fare qualcosa di importante. In un momento in cui tutti pensavano ad altro, giustamente, per l'amore del cielo, c'erano altre priorità, voi avete tenuto alta l'attenzione su un argomento che ci accomuna in parecchi, insomma, tecnici e operatori del settore. Quindi, va a voi il mio grazie particolare, oltre a quello di avermi invitato oggi a raccontare le mie idee, insomma, le mie conoscenze. Allora, il tuo argomento è molto vasto, mi fa solo paura pensare di esaurirlo in 15 minuti, però farei un passo indietro riprendendo un po' quello che avete detto tu e Massimo, il prato come cenerentola, no? Scarsa formazione, poca professionalità. In effetti, io queste cose le vado ribadendo da molto tempo. Faccio dei flash. In italiano non esiste un termine che raffiguri, che identifichi l'esperto di tappeti erbosi. Può essere una questione di lana caprina, se vogliamo, che comunque una lingua ricca come l'italiano non abbia un termine che lo definisca. Però, secondo me, è sintomatico della scarsa attenzione che da sempre, direi da sempre, la cultura italiana, la ricerca italiana ha dato al settore specifico dei tappeti erbosi. E di conseguenza, a cascata, viene fuori quello che diceva Massimo, ovvero la scarsa attenzione nella formazione a ogni livello fino a quello universitario. Sono pochissimi gli insegnamenti di tappeto erboso nelle università italiane e ancora meno ricerche, pubblicazioni, appunto, come ha detto Massimo. Quindi, una sostanziale, generalizzata, mancanza di attenzione e cultura a questo che ovviamente si riflette poi in quello che vediamo per terra, perché è una figlia della scarsa conoscenza e della scarsa attenzione. Ti dirò di più, a me fa paura, spesso sento molti colleghi, insegni, relatori che associano la parola verde urbano quasi esclusivamente agli alberi. E io contesto fortemente questa immagine, questa semplificazione, non perché ovviamente non voglio anch'io bene valuti come importanti gli alberi, ma perché c'è altro nel verde urbano che viene sempre poco ricordato. Insomma, un po' un verde di serie B rispetto a tanti altri sistemi vegetali. Siamo pieni di foto di ragazzi e ragazze che abbracciano gli alberi. Non mi ricordo di foto di, se non quelle mie di Massimo e magari di Paolo che ci seguirà che stanno giù su un prato ad accarezzarlo e a guardarlo. C'è molta meno empatia in un prato evidentemente che non in un albero. Ma questo sarebbe poco male se non generasse delle pericolose distorsioni dalla realtà. Io vedo da tanti anni da osservatore credo abbastanza attento delle distrazioni pericolose che poi generano problemi. Faccio riferimento al fatto che vengono visti i tappeti erbosi e i prati come fonti di inquinamento. Non si può generalizzare il concetto. Per alcuni c'è una manutenzione molto forzata che tra l'altro oggi si è ridotta grandemente grazie al PAN e alle leggi che sono state imposte. Per cui non è più vero in senso assoluto questo tipo di discorso. Molti altri denunciano il fatto che ci sia un impoverimento diciamo vegetale ecologico nel discorso prato quasi assimilandolo a una monocoltura. Ora io con tutto rispetto vedo più monocoltura in un filare di tigli che non in un prato urbano se proprio vogliamo parlare di specie vegetali senza contare quello che invece succede nel sottosuolo di un prato urbano quindi tutte le dinamiche ecologiche microbiologiche che subentrano attraverso la cessione della sostanza organica nel ricambio radicale eccetera eccetera per cui però queste come posso dire queste deviazioni dalla realtà generano come ho detto pericolose variazioni sul tema alternative che poi alternative non sono e ovviamente mi riferisco ai prati sintetici lasciami fare un piccolo accenno su questo aspetto perché so che ci sono molte amministrazioni comunali state attenti ai prati sintetici i prati sintetici non sono l'alternativa ai prati naturali non lo sono economicamente e non lo sono ecologicamente hanno una grandissima forza che è il marketing che è la potenza di fuoco di multinazionali che ci stanno dietro rispetto a singoli professionisti o poche associazioni nostre di categoria ma la gestione e soprattutto poi il successivo destino del tappetto erboso sintetico è qualcosa di grave di pericoloso adesso non sono io a dirlo ma il fatto che questi prati non solo entrino nel discorso sportivo e già lì sarebbe grave perché ricordo che ogni quattro campi variati da naturale sintetico noi perdiamo tre ettari di terra permeabile fotosintetizzante attiva in termini di benefici ecosistemici ma il problema ultimamente è che questa cosa si sta sdoganando anche in altri percorsi tipo giardini pubblici aree gioco aree degli asili nido nonché tanti 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 giardini privati quindi è pericoloso ed è da evidentemente attenzionare particolarmente perché la realtà è diversa come dicevi tu il prato occupa la maggiore superficie nelle aree urbane c'è uno studio americano che dice che siamo al circa 25% delle superfici urbane americane che sono occupate da tappeto erboso quindi è una superficie grandissima che anche solo quantitativamente potrebbe cambiare il destino diciamo di quel di quello spazio nel bene o nel male a seconda di come la gestiamo e poi l'ha detto Massimo non me ne voglia nessuno ma non c'è un'alternativa calpestabile simile al tappeto erboso e solo su una superficie calpestabile come il prato noi possiamo ritornare a quel contatto con la natura che abbiamo che ci è mancato in questo periodo che a cui tutti cerchiamo di ambire che è innato se vogliamo nell'uomo e dove si socializza si corre si parla distanziamento sociale a parte quindi non c'è una questione tra amici o nemici del prato il prato ha delle funzioni che solo il tappeto erboso solo il prato urbano può avere ovviamente poi per rapidità tralascio gli effetti ecosistemici che essendo un sistema vegetale tra l'altro fitto e molto attivo perché è erbaceo sono molto elevati quindi tutti i discorsi legati alla riduzione del ruscellamento superficiale la riduzione dell'isole di calore l'effetto filtro contro gli inquinanti il sequestro di CO2 la produzione di ossigeno l'aumento della fertilità biologica nei terreni perché come ha detto Massimo ci sono strategie interessanti in manutenzione come il mulching che attenzionano molto questo problema e mantengono diciamo così la sostanza organica lì sul posto quindi ci sono molti molti aspetti che andrebbero rivalutati enfatizzati e accentuati e fatti conoscere in altri tavoli si diceva non ripartire ma cambiare è proprio il caso di cambiare perché con questi presupposti non si andrà da nessuna parte quindi bisogna gettare un colpo di spugna e in qualche modo ripartire da zero attenzione che zero nella manutenzione dei prati non vuol dire andare verso l'ignoto ci sono strategie di manutenzione note ci sono esempi in Italia anche ma in Europa nel mondo noti e quindi visionabili ripetibili di manutenzioni efficaci a basso costo con una gestione oculata e differenziata della manutenzione quindi passatemi il termine basta sapere chiare quello che hanno già fatto e sperimentato in molti altri situazioni senza andarsi a inventare nulla di particolarmente originale quindi le soluzioni sono quasi tutte a portata di mano venendo al discorso tuo della manutenzione esattamente la parola secondo me di riferimento è differenziazione bisogna avere il coraggio secondo me io so che ci sono molte amministrazioni comunali oggi che ci ascoltano di saper differenziare le aree a verde e attraverso livelli di manutenzione via via crescenti o decrescenti questo è il primo aspetto che inizio già a vedere in molte in molte amministrazioni comunali non tutti i prati possono e devono essere gestiti nello stesso modo allora ci potrebbe essere un livello alto di prati di rappresentanza dove si devono effettuare interventi particolari dove il numero di sfalci sarà superiore dove l'attenzione e la manutenzione sarà superiore ma ci saranno anche via via aree fino ad arrivare a quei famosi parchi o aree di collegamento tra la campagna e la città dove il prato infatti non parlo di tappeto erboso ma parlo di prato è più simile a un prato pascolo e quindi lo sfalcio è più simile a una fienagione se vogliamo proprio avvicinarci a un concetto agricolo questo sistema di differenziazione per esempio del taglio genererebbe una differenza di costi perché sappiamo benissimo che il costo dello sfalcio è la voce di costo maggiore per l'amministrazione comunale riguardo alla gestione dei prati che quindi potrebbero generare dei flussi positivi di risparmi da convogliare via via nelle zone a maggiore intensità di utilizzo e di manutenzione entro un attimo di più nel tecnico di questa discussione che però è sempre molto semplice e banale ricordando che il taglio viene gestito attraverso due semplici parametri l'altezza di taglio e la frequenza di taglio e che i due parametri sono inversamente correlati tra loro ovvero all'aumentare dell'altezza di taglio io posso in alcuni casi devo ma in generale io posso ridurre la frequenza di intervento e qui sta il gioco virtuoso della differenziazione della gestione dello sfalcio perché se noi e ci sono ormai moltissime prove e ricerche in tal proposito noi riusciamo ad aumentare l'altezza di taglio media di tutti i nostri prati i vari livelli di cui accennavo prima dal prato di rappresentanza fino all'area estensiva se noi riusciamo ad accentuare l'altezza di taglio quindi l'altezza di intervento su quei prati noi creiamo un sistema virtuoso da un punto di vista biologico il prato ne risente positivamente aumenta la sua fittezza approfondisce l'apparato radicale di conseguenza l'effetto diciamo estivo di carenza idrica viene via via ridotto aumenta la competizione nei confronti delle infestanti che chiaramente avranno maggiori problematiche a inserirsi all'interno di un contesto più fitto perché tagliato più alto aumenterà la capacità del prato di resistere e di essere resiliente proprio nelle fasi estive e via discorrendo e oltretutto ribadisco quella correlazione inversa con la frequenza per cui all'aumento del taglio io potrò generare dei risparmi interessanti sulla riduzione della frequenza questo è un aspetto tanto noto quanto poco praticato e spesso tra noi colleghi passatemi il termine pratologi e affini ci chiediamo come mai perché sui prati urbani non deve rotolare una palla e quindi ci deve essere un'altezza di taglio tale da poterla fare rotolare sui prati urbani bisogna stendersi calpestare e camminare e quindi che siano alti 5 che siano alti 10 centimetri da questo punto di vista non c'è differenza nella fruizione ma c'è una profonda differenza nel risultato ok tutto questo sarebbe ancora più diciamo enfatizzato e vado a concludere se messo in comunicazione con gli aspetti che poi Paolo tratterà cioè gli aspetti di progettazione della miscela adatta all'insediamento urbano qui ci sono stati enormi progressi da un punto di vista genetico scientifico che non sono assolutamente considerati a livello di capitolati a livello di linee guida nei comuni io leggo ancora cose scusatemi aberranti in questi capitolati leggo ancora la presenza di specie totalmente inadatte messe lì forse senza pensarci o pensando che tutte le erbe sono uguali tutto sommato quindi concludo insomma in questa mia veloce trattazione bisogna ripensare il processo decisionale e chiaramente parlando di amministrazioni comunali perché questo è il senso forse maggiore di questo di questo tavolo cercare di riguardare ciò che porta alla definizione delle linee guida e dei capitolati alla luce di queste considerazioni ovviamente per far questo bisogna conoscere bisogna avere il coraggio di cambiare e di non continuare a fare quello che si è fatto prima che non è assolutamente evidentemente detto che sia corretto e solo così noi potremmo invertire questo trend che io continuo a vedere intorno a me molto pericoloso di distrazione dalla realtà cioè di sostituzione progressiva dei prati naturali verso altre soluzioni che di alternativo non hanno niente che di economico non hanno niente che di ecologico non hanno niente quindi ripeto ripartire cambiando abbastanza radicalmente io con questo per ora ho concluso poi so che ci saranno domande probabilmente grazie 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 Riccardo per la tua chiarezza espositiva hai inquadrato bene la situazione mi è piaciuta veramente molto la tua relazione e mi è piaciuto anche il fatto che tu abbia toccato il tema dei prati sintetici è noto a chi ci segue che su Acer noi abbiamo pubblicato diversi articoli in tal senso mettendo assolutamente in evidenza e diciamo confronto il prato naturale vantaggio in prato naturale rispetto naturalmente a questo sintetico e non ci sono dubbi che noi siamo assolutamente della parte del naturale per tutte le ragioni che tu hai spiegato e che sicuramente tutti noi conosciamo hai spiegato anche bene l'importanza della manutenzione differenziata che cos'è e quindi hai toccato il tema della questione della scelta delle specie appunto delle specie vegetali che si possono utilizzare e quindi a questo punto io chiamerei subito Paolo Stefanoni proprio perché poi avremo occasione di riprendere tutti questi argomenti e quindi lo prego di diciamo di palesarsi quindi intanto Paolo tu sei general manager di una delle più importanti aziende sementiere a livello europeo forse anche mondiale non lo so ma è sicuramente una delle poche che fa ricerca interna e questo mi sembra molto importante allora come dicevamo prima ancora oggi risulta che in ambito pubblico manchi un adeguamento rispetto alle specie vegetali da impiegare per i prati come è possibile quindi far conoscere le varietà di specie più adattate più nuove per realizzare prati più performanti e più aderenti alle esigenze in nostre città e assicurare una manutenzione migliore rispetto al passato che vuol dire appunto più sostenibile a te la parola grazie 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 anzitutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti fatti dagli altri relatori per questi incontri che sono veramente interessanti quantomeno possiamo dire che hanno l'importante svolgono l'importante funzione di mantenere viva l'attenzione su alcuni argomenti come per esempio il tappeto argoso che se no sono sempre limitati circoscritti ai diretti interessati ai pochi che si interessano di questi argomenti ringrazio anche Riccardo che mi ha dato l'assist per parlare di progettazione di miscugli di specie di varietà eccetera perché questo è sicuramente l'argomento centrale secondo me Massimo e Riccardo hanno parlato molto bene per quanto riguarda la manutenzione ma la manutenzione non può prescindere da una corretta progettazione e visto che qua siamo di fronte molto probabilmente ad una platea di tecnici comunali di agronomi eccetera direi che la programmazione e la progettazione è fondamentale per mantenere comunque per poter costruire qualche cosa che poi possa essere mantenuto con le per le funzioni per cui è stato creato quindi la prima cosa da dire e che è la cosa fondamentale è che il prato comunque è una cenosa è una quindi è un ecosistema seppur piccolo costituito da più specie da piante con caratteristiche molto diverse e quindi con esigenze anche molto diverse e parliamo solo delle specie ma all'interno delle specie c'è un'infinità di varietà con altrettante caratteristiche diverse l'una dall'altra quindi la cosa fondamentale è conoscere diciamo che l'industria cerca di far conoscere purtroppo molto spesso il committente si rifiuta di conoscere o magari non ha il tempo o non ha la competenza o è sommerso da altre mille problematiche che lo portano a non cercare di approfondire determinate argomentazioni tecniche stiamo parlando di argomentazioni puramente tecniche io come già anche Riccardo ha accennato vedo dei capitolati non vecchi di più cioè capitolati fatti con il sistema copia e incolla di capitolati fatti vent'anni fa che portano ancora la dizione semina di prato verde piuttosto che di miscuglio idoneo ma idoneo a che cosa idoneo a che cosa e quindi il miscuglio idoneo chi stabilisce chi è idoneo perché io posso avere un miscuglio fatto per avere un parco pubblico calpestato sì e no solo in alcune zone magari altre zone poco accessibili eccetera e posso fare una scelta oppure posso avere un campo sportivo io non posso avere lo stesso tipo di tappeto erboso di qua e di là ricordiamoci che ci sono tappeti erbosi come Massimo sa bene che vengono tagliati a 3 mm di altezza ed altri che possono essere tranquillamente tagliati a 10 cm senza avere nessun tipo di problema chiaramente il progetto iniziale deve essere diverso quindi le scelte iniziali devono essere molto diverse l'industria come dicevo all'inizio ti ringrazio Graziella per l'introduzione molto importante ma l'industria propone continuamente nuovi temi di sviluppo nei tappeti erbosi come dicevo è molto difficile che la committenza li segua e che cerchi di o perlomeno cerchi di seguirli e cerchi di capirli diciamo anche un'altra cosa importante la selezione genetica che viene fatta da pochissime aziende al mondo è un esercizio di previsione diciamo che non dico che ci vuole la sfera di cristallo però per capire che cosa servirà nel futuro i breeder cioè le persone che fanno selezione genetica e che quindi portano alla costituzione di nuove varietà devono cominciare a pensarci 15 anni prima perché per avere una varietà nuova registrata e utilizzabile in un miscuglio ci vogliono circa 15 anni il che significa che se io oggi devo pensare a costituire una nuova varietà devo immaginare che cosa il mercato mi richiederà tra 15 anni quindi quando 15 anni fa si diceva che ci sarebbero che sarebbe stato necessario per avere per esempio avere dei miscugli che con basse esigenze idriche nel nord Europa dove problemi di acqua non ne hanno mai avuti dicevano ma voi siete pazzi noi problemi di acqua non ne abbiamo per cui perché dovremmo fare ricerca per selezionare varietà resistenti alla bassa disponibilità idrica adesso per fortuna sono state fatte queste ricerche perché nel nord Europa sono tre anni che hanno siccità tremende forse peggio di quelle che abbiamo noi perché noi nel frattempo siamo sempre stati abituati quindi abbiamo gli impianti di irrigazione abbiamo fatto delle scelte eccetera eccetera ma fino a 10-12 anni fa utilizzare la festuca rondinacea in Germania era un'aberrazione attualmente la festuca rondinacea viene utilizzata in tutto il nord Europa ma dico di più nel nord Italia fino a 10 anni fa utilizzare la bermuda o le macroterme era considerata una cosa da matti quasi veniva utilizzata proprio localmente in certe situazioni particolarissime eccetera adesso sta diventando non dico la norma ma comunque sta diventando un'opzione e questa opzione in particolare deve essere un'opzione importantissima per il verde pubblico perché le macroterme hanno molte minori esigenze hanno molte minori minori complicazioni minori avversità rispetto alle microterme e soprattutto sono disponibili al top della loro qualità nel momento in cui l'utente che è il cittadino vuole utilizzare il tappeto erboso quindi questo è per spiegare come sta cambiando per cui cambia il clima cambia la selezione cambia la genetica e quindi cambia anche l'offerta del mercato l'altra cosa importante è che noi vediamo che c'è uno scollamento abbastanza ampio tra la ricerca l'industria e l'utenza e il mercato per cui se per passare dalla ricerca all'industria servono circa cinque anni cioè vuol dire che il ritardo dell'industria sulla ricerca è di circa cinque anni vuol dire che la ricerca comincia a pensare adesso qualche cosa che l'industria recettirà tra cinque anni a quel punto l'industria deve cominciare a ragionarci fare la selezione eccetera eccetera il mercato arriva ancora cinque anni dopo o addirittura dieci anni dopo o in certi casi non arriva mai questo è il problema grosso quindi io vedo spessissimo dei miscugli con delle composizioni impensabili che vengono utilizzati in condizioni assolutamente sbagliate e questo quindi è fondamentale cioè fondamentale capire qual è l'esigenza e qual è cos'è che offre il mercato diciamo che attualmente le linee visti i tempi le linee guida della ricerca sono quelle che vanno nella direzione di ridurre gli input ai tappeti erbosi per cui noi dobbiamo cercare di costruire e mantenere dei tappeti erbosi che abbiano basse esigenze idriche di taglio di concimazioni di trattamenti fitosanitari eccetera eccetera noi dobbiamo ridurre i costi questo ormai è il il diktat per tutti quanti e quindi la ricerca sta andando in quella direzione ed è possibile quindi non è possibile anche prima si parlava di tagli non è possibile dare un'indicazione generica di tagli cioè 4, 5, 10, 20 tagli all'anno ma di che cosa? Io posso avere dei miscugli che crescono molto meno e possono fare sui quali si possono fare che ne so 10 tagli all'anno mantenendo comunque un livello qualitativo molto alto dopodiché se io nel miscuglio ho specie varietà foraggere o specie che non hanno niente a che vedere con l'ambiente nelle quali vengono utilizzate se io faccio 20 tagli all'anno comunque avrò sempre un prato schifoso perché questo tenderà a crescere tantissimo e di conseguenza il taglio abbasserà drasticamente la qualità quindi bisogna passare dall'ottica di risparmiare a tutti i costi nella costruzione all'ottica invece di fare delle scelte giuste che ci permettono nei 10 15 20 anni in cui sarà la durata del tappeto erboso di poter avere il tipo di manutenzione ideale per quel tipo di uso per quel tipo di prato quindi la progettazione e quindi la genetica e quindi l'offerta al mercato ci dà la possibilità di fare quello che vogliamo dobbiamo solo informarci e capire come ci possiamo muovere e cosa possiamo scegliere quindi mi sento di dire che l'informazione non manca bisogna solo andarsela a cercare oppure volerla ricevere l'ultima cosa che voglio dire e che ho accennato già è il discorso delle macro terme le macro terme soprattutto in ambiente pubblico in ambiente urbano dal nord dal sud al nord quindi ormai diciamo in quasi tutta l'Italia lasciando magari perdere le aree montuose dove fa più freddo eccetera però sono sempre utilizzabili bisogna capire dove e come utilizzarle e bisogna anche cominciare a pensare che magari il prato non va considerato come il prato sintetico che io definisco più frequentemente plastica perché non è un prato sintetico è una stuoia di plastica diciamola così quindi io a volte vedo delle rotonde fatte in plastica che sono orribili per quanto uno voglia cercare poi di metterci il sasso bianco che fa contrasto però sono veramente orribili nelle rotonde stradali per esempio chi ci impedisce di mettere delle macro terme io vedo a volte è vero vanno contenute vanno gestite eccetera eccetera ma a volte sarà capitato a tutti probabilmente di vedere su una rotonda un impianto di irrigazione che funziona mentre piove mentre sta piovendo quindi queste sono tutte cose da evitare è inutile andare a fare delle rotonde con il prato di agrostide o con il prato di poa in purezza che deve essere che richiede per la gestione una competenza che probabilmente nessuno a quei livelli ha bisogna fare un prato che possa essere gestito facilmente e bisogna anche accettare per esempio che il prato durante l'inverno quanto gli alberi perdono le foglie il prato può essere giallo chi ci dice che non è bello si possono fare delle combinazioni cromatiche stupende anche nella scelta dell'uso delle macro terme assieme a degli arbusti a delle tapezzanti a degli alberi eccetera quindi bisogna ripensare un attimo alla progettazione e a cascata scendere alla manutenzione io ho terminato la mia presentazione grazie grazie Paolo è interessantissimo effettivamente hai anche tu illustrato perfettamente come i precedenti tuoi colleghi la situazione e da qui emerge chiaramente che insomma per avere dei risultati bisogna partire da una corretta progettazione bisogna scegliere specie adeguate alle condizioni ambientali e a tutto il resto condizioni fondamentali per avere poi una manutenzione corretta che ci permette di contenere anche i costi quindi diciamo che il discorso è molto semplice teoricamente poi sappiamo che di fatto di fatto non è così fino in fondo ho visto in chat mentre parlavi che un partecipante ha chiesto di indicare eventuali pubblicazioni che potrebbero essere consigliate anche per capire bene questi temi io al momento molto modestamente mi permetto di dire che magari anche abbonarsi ad Hatcher può aiutare anche se noi non entriamo ovviamente dentro nella questione proprio tecnica precisa ma l'affrontiamo comunque affrontiamo ovviamente tutte queste tematiche a livello tecnico culturale quindi io chiedo intanto alla regia di cominciare a presentare le domande ho visto che c'è qualcosa visto che c'è ancora grazie dottor Petrillo è già abbonato mi fa piacere grazie chiedo quindi alla regia di presentare domande ed eventualmente anche alcune riflessioni so che in platea ci sono nomi noti come ho già detto in altri precedenti tavoli non siate timidi se è necessario chiedete eventualmente di intervenire come sempre l'obiettivo di questi tavoli è quello di di fare fare confronto è un modo per confrontare le varie opinioni e per portarci a casa qualche idea in più qualche riflessione in più quindi Diego procedi dimmi un po' cosa possiamo dire se c'è qualche domanda sì allora un primo gruppo di domande si concentra sulla scelta delle specie per la creazione del tappeto erboso quindi è arrivata una domanda molto generica all'inizio che è stata in parte già sviscerata dagli interventi dei relatori però vediamo se intendono aggiungere qualcosa quale specie vedreste meglio in un contesto di verde urbano e legato legato a questa legato a quella che ha detto Paolo Stefanoni sulle macro terme l'utilizzo generalizzato di macro terme può costituire un problema di inquinamento ecologico? Possiamo chiedere a Massimo magari? Io rispondo sulla seconda che mi sento e poi ti dico anche qualcosa della prima parte sì no 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 perfetto la seconda parte Gramminia Comune è presente da non dico da Sondrio ma insomma da appena sotto Sondrio fino alla punta del fondo dell'Ampedusa insomma per cui è già normalmente presente le macro terme in Italia e l'evoluzione che come diceva Paolo prima ci aiuta molto abbiamo varietà di grandissima qualità in questo momento con dei tempi di insediamento rapidi con esigenze nutrizionali basse con esigenze idriche basse che proprio in ambiente urbano potrebbero essere importanti da utilizzare logicamente conta molto e anche qui Paolo l'aveva già accennato prima il contesto in cui si opera cioè se mi serve un prato di un certo tipo probabilmente le macro terme non sono le specie adatte però in un ambito tipo una rotatoria tipo una zona bassa manutenzione una zona forte calpestio anche sono delle soluzioni che vanno prese in considerazione non è la soluzione ottimale non è la soluzione che è la panacea per tutti i mari non sarà un uso generalizzato della macro term però potrebbe essere una possibilità in più che negli ultimi anni abbiamo studiato bene siamo andati abbastanza avanti e integra la gamma di specie da tappeto erboso che noi possiamo utilizzare in ambito urbano la fatta è la maggiore poi sia Riccardo che Paolo sapranno dire meglio di me la festuca rondinacea secondo me è una specie che ha ottime possibilità di impiego in queste frangenti in questi ambienti ed è una delle possibilità che abbiamo quelle delle macro term è un'altra possibilità che abbiamo conta molto anche se si pensano i giardini e i parchi come aveva pensato Riccardo cioè intensità manutentive differenziate a seconda del tipo di utilizzo che si fa del prato e quindi specie diverse nelle diverse parti e quindi serve la capacità di riuscire a gestirla in questo modo secondo me non è un impatto ecologico negativo quello della macroterma è una possibilità che poi abbiamo proprio in un momento in cui dobbiamo ridurre le risorse come come questo bene Riccardo e Paolo volete aggiungere qualcosa rispetto alla domanda che ha fatto prima Diego allora sottoscrivo quello che ha detto Massimo e accentuo l'aspetto sulle festuca rondinacee per due ordini di motivi perché sono molto testate a livelli diversi in tutta Italia è una specie spontaneizzata ormai in Italia quindi anche il concetto dell'inquinamento diciamo ecologico per la specie non sussiste e c'è un'ampia ampia diversificazione varietale quindi possiamo andare incontro veramente con la festuca a molte esigenze dei prati urbani e lo dico con ragion veduta del fatto che riprendendo i famigerati capitolati di impianto è una specie quasi mai presente o se è presente è presente in quantità irrisorie che non fanno il tappeto erboso tale da non fare il tappeto erboso nella sua interezza invece oggi come oggi secondo me la festuca rondinacee rappresenta da nord a sud una delle variabili diciamo delle potenzialità ancora inespresse nel nostro settore aggiungo solo questo e poi lascio la parola a Paola gli americani la chiamano festuca alta e questo la dice lunga sul sul fatto della gestione cioè sulla capacità e anzi sul fatto che lei possa migliorare in termini gestionali con altezze di taglio elevate quindi rappresenta da questo punto di vista per allacciare ancora una volta il discorso progettazione della miscela gestione differenziata la specie a mio avviso oggi ideale e ancora sottutilizzata in molti contesti urbani grazie Paolo ma allora sul fatto del possibile inquinamento ecologico mi viene da pensare che un prato comunque se io devo fare un tappeto erboso comunque vado a utilizzare delle specie che magari non sono presenti esattamente in quella zona ecologica in cui lo vado a realizzare ma sto facendo un qualche cosa di tra virgolette artificiale nel senso io sto costruendo un tappeto erboso che deve rispettare a determinate esigenze paesaggistiche funzionali eccetera eccetera per cui assolutamente non vedo questa possibilità poi certo le specie graminacee disseminano se uno non le taglia le lascia crescere e di conseguenza possono colonizzare un territorio anche volendo però nel senso stiamo parlando di un tappeto erboso per cui non stiamo parlando di un prato di un rinverdimento ecologico e quindi non vedo questa questa problematica vale la stessa cosa per qualsiasi albero arbusto eccetera che non è mai o quasi mai autoctono per cui nella progettazione a me interessa la funzionalità se poi uno mi chiede un prato ecologico perché si deve inserire in un ambiente che ne so una cava piuttosto che un recupero eccetera non farò mai un prato di non lo so di loietto e festucca perché probabilmente bisogna fare qualcos'altro in quelle circostanze però un tappeto erboso urbano secondo me è già di suo una soluzione come dicevo tra virgolette artificiale quindi non vedo questa problematica perfetto Diego ho visto davvero che in chat ci sono tantissime riflessioni tantissime domande procediamo perché ce ne sono tante ed è bene procedere vai ok allora erano arrivate delle altre domande sempre relative alla scelta delle specie chiedono se è plausibile pensare a realizzare un tappeto erboso con specie vegetali spontanee per esempio e se ci sono dei contesti in cui queste specie vegetali spontanee sono sicuramente adatte al luogo bene qui credo che tutti e tre possiate dare una risposta io mi affido mi affido completamente a voi non so decidete oppure cominciamo al contrario ripartiamo da Riccardo poi Paolo e poi Massimo perché è molto interessante questo confronto è interessante anche se esula un filo da quelle che sono forse le nostre competenze io direi che si può Riccardo esatto io detta così a caldo chiaramente sarebbe probabilmente la soluzione a molti problemi però in questo momento è una soluzione quasi non praticabile perché intanto bisognerebbe preoccuparsi di ottenere del seme da piante spontanee quindi ci dovrebbe essere tutto un percorso di ricerca selezione produzione riproduzione e produzione del seme in quantità sufficientemente elevate che siano commercialmente poi utilizzabile ed evidentemente poi nella domanda si sottende al fatto che l'Italia con questo si presta benissimo ogni 30 km cambiano le condizioni pedoclimatiche e quindi cambierebbe la composizione floristica ideale di quel posto quindi capisci bene Graziella che è una di quelle situazioni che si dice sarebbe la soluzione ma secondo me non può esserlo per le difficoltà oggettive di rendere un minimo standardizzabile questo percorso diciamo di ricerca e di produzione è chiaro che un miscuglio adatto all'ambiente lagunare dell'entroterra lagunare del Veneto non può essere adatto all'ambiente che c'è sulle coste calabresi ma anche molto prima di lì basta andare in Liguria basta andare all'interno della pianura padana quindi sinceramente la difficoltà la vedo molto elevata sul piano pratico della fattibilità bene quindi Paolo riprendendo le parole di Riccardo questa cosa non c'è una soluzione o c'è una soluzione ma no non c'è la soluzione concordo pienamente con quanto ho detto da Riccardo non al di là del fatto che non esiste la produzione di specie che siano autotone in tutti gli ambienti già il fatto se io prendo una specie che è stata raccolta in Calabria e che magari là è una specie autotona e io la riporto in Veneto altrettanto quella specie può essere autotona ma nel momento in cui io la vado a riprodurre la vado quindi a migliorare anche geneticamente per avere una maggiore performance maggiore produzione di seme eccetera eccetera immediatamente non è più quella che ho raccolto là e non è corrispondente a quella che io posso trovare in Veneto quindi diciamo che queste sono un po' quelle cose che si dicono o si scrivevano non so quando adesso non sono più tanto aggiornato sui discorsi ma quando si parlava della semina di fiorume il fiorume altro non è che uno sfalcio di erbe autotone che vengono lasciate naturalmente disseminare e che teoricamente dovrebbero riprodurre esattamente l'ambiente erbaceo che c'è nella zona questo non può essere considerato un prato urbano può essere considerato un inerbimento ecologico non saprei come definire ma il prato urbano secondo me è un'altra cosa posso concludere l'argomento anzi concludere poi c'è Massimo se vuole aggiungere ovviamente mi viene in mente adesso ma questo è forse il momento giusto di segnalare che la ricerca a cui ha fatto ampio riferimento Paolo la ricerca genetica il miglioramento genetico delle specie traminacee ha tra i suoi obiettivi conclamati da molti anni da alcuni anni un fattore secondo me determinante in quello che stiamo dicendo adesso che si chiama adattabilità cioè vincono e passano diciamo così ai livelli superiori fino alla loro commercializzazione le varietà che si presentano maggiormente adattabili in più ambienti possibili e questa forse la caratterizzazione più difficile che oggi la sfida più difficile che i breeder cercano di fare e quindi loro trovino ambienti umidi ambienti secchi grandi terreni compatti e argillosi piuttosto che terreni sabbiosi o diverse intensità manutentive ecco che quelle specie o quelle varietà riescono ad adattarvisi questa parola è una parolina magica che più riusciamo a concretizzare nelle scelte all'interno della nostra miscela di sementi e più risolveremo problemi perché anche all'interno dello stesso comune avremo ovviamente zone molto diverse tra loro e quindi la capacità di usare varietà il più adattabili possibili alle diverse caratteristiche del luogo e del terreno risolverebbe per noi molti problemi Massimo e in ambito sportivo com'è la situazione? in ambito sportivo la situazione è quella che dicevano loro nel senso che fondamentalmente la ricerca va verso la specie più adatta per quelle determinate esigenze noi dobbiamo avere le migliori performance e quindi cercare le specie che in quel determinato ambiente in quel determinato microclima o clima che noi abbiamo hanno le migliori performance per cui è molto molto importante il discorso di adattabilità che faceva prima Riccardo la scelta non è una scelta che dice questa specie va bene dappertutto ma noi dobbiamo scegliere nel singolo caso nelle singole condizioni la specie più adatta Paolo parlava prima di macroterme le macroterme hanno un grandissimo uso io sono innamorato delle macroterme loro due lo sanno e ogni tanto forse mi prendono anche un po' in giro però non vanno bene dappertutto non possiamo pensare che sia la specie che ci ha risolto tutti i problemi le specie che ci hanno risolto tutti i problemi abbiamo situazioni in cui queste specie non le possiamo utilizzare pensare a un prato naturale fra virgolette vuol dire a un prato che si adatta bene alle esigenze in cui è e che non dobbiamo forzare troppo ecco la necessità è quella di non forzare non arrivare troppo troppo forti ecco con gli input soprattutto Diego ho visto altre domande abbastanza puntuali vuoi riprendere per favore perché poi chiaramente vale quello che dico tutte le volte questo è un tavolo di confronto non c'è la ricetta valida per tutti nessuno è depositario della verità assoluta però sicuramente abbiamo tre esperti molto competenti quindi è sicuramente il momento anche per approfittarne se mi permettete Diego si accenna poi ai servizi ecosistemici e in particolare anche all'impatto ambientale che ha la manutenzione del del tappeto erboso quindi chiedono per limitare ulteriormente l'impatto ambientale dei prati urbani è possibile progettare una manutenzione solo con motori elettrici e a questo punto aggiungo io se si possono essere indicati alcune strategie per appunto una manutenzione a impatto ambientale ridotto insomma direi che è una domanda anche questa molto abbastanza complessa e non so Massimo Riccardo forse cominciai da Massimo in questo momento sì allora sicuramente l'impatto ambientale del tappeto erboso non è un impatto ambientale negativo nel senso che ci sono ampi studi ormai che sia della carbon sequestration sia di altri fattori indicano che è migliorativo una buona manutenzione del tappeto è sicuramente migliorativa dell'impatto generale sull'ambiente data dal tappeto erboso questo sicuramente sì abbiamo più strumenti dal punto di vista elettrico questo è anche assolutamente vero noi abbiamo la possibilità di utilizzare ottimi macchinari anche ibridi oltretutto anche per grandi superfici come il Golf ormai la possibilità di utilizzare macchine ibride perlomeno se non anche totalmente elettriche che per adesso ancora poco performanti abbiamo le possibilità di ridurre ulteriormente questo tipo di impatto anche nel pubblico c'è questa possibilità torniamo alle ragioni di costo fondamentalmente che sono quelle che bloccano spesso l'impiego di questi di questi sistemi Riccardo vuoi aggiungere qualcosa sì e no nel senso che fondamentalmente è corretto quello che dice sia chi ha posto la domanda sia la risposta di Massimo secondo me siamo all'inizio di un percorso nell'elettrico che porterà ad ulteriori miglioramenti io mi riferisco pur non essendo un esperto di macchine attenzione però forse oggi quello che manca è autonomia e potenza in queste macchine da taglio soprattutto se si dovesse fare un mulching come Dio comanda forse non siamo ancora all'altezza delle potenze erogate dai motori dai motori termici però immagino che nel corso dei prossimi anni questo percorso positivo virtuoso di riduzione dell'impatto ambientale di questo tipo di macchine ci sarà faccio anche riferimento perché tutto è collegato al fatto che una corretta progettazione degli spazi possa anche minimizzare l'impatto di queste macchine riducendo di fatto la loro presenza sul prato mi riferisco per esempio ad un paio di progetti di realizzazioni che ho avuto modo di vedere di seguire nel tempo in ambito urbano dove a livello già progettuale il sistema diciamo prato è stato concepito per ridurre grandemente fino quasi a zero l'uso dei decespugliatori i decespugliatori secondo me sono una piaga vera e propria nel tappeto urboso perché ovviamente non fanno taglio non saprei definire se i miei amici relatori mi aiutano a definire ciò che fa il decespugliatore sul prato gliene sarò grato e i danni che fanno anche i colletti delle piante tutti gli arboricoltori sanno bene di cosa parlo quindi anche la capacità progettuale di ridurre al minimo e in questo per esempio gli americani sono molto più bravi di noi basta andare su internet a vedere i tornelli che fanno attorno alle piante intorno ai manufatti i dislivelli mancanti cioè tutte le soluzioni diciamo progettuali in modo da riuscire a coprire la maggior superficie possibile semplicemente con gli organi di taglio della macchina da sfalcio questo comporterebbe una riduzione dell'impatto diciamo negativo del decespugliatore un aumento delle rese lavorative notevole perché la resa di un decespugliatore del suo operatore è veramente imbarazzante e come ho detto collegherebbe manutenzione e progettazione come vedete il percorso da fare rispetto all'attualità è molto lungo insomma noi gettiamo dei sassolini Certo Diego c'è ancora qualcosa? Posso dire io un'ultima cosa a questo proposito? Certo scusami Paolo Non voglio intervenire a parlare di macchine non è il mio mestiere non voglio fare sproloqui ma torno invece al discorso della progettazione attenzione che la progettazione è la prima il primo passo per ridurre quella presenza di macchine sul tappeto erboso di cui parlava Riccardo perché io posso dire nella Varenbrug comunque noi si fanno prove in continuazione per valutare le esigenze delle varietà quindi noi non dobbiamo semplicemente fermarci alla specie perché la ricerca è molto spinta sulla varietà e all'interno della specie ci sono varietà che hanno caratteristiche veramente completamente diverse addirittura c'è variabilità intravarietale quindi c'è la variabilità all'interno della varietà però qua andiamo nell'ambito di cose molto troppo specifiche però la scelta della varietà porta ad avere la realizzazione di un tappeto erboso che non ha niente a che vedere con un tappeto erboso fatto con le stesse specie nelle stesse percentuali ma con varietà differenti quindi vuol dire che noi dobbiamo conoscere che cosa fa la varietà come si comporta la varietà tanto per dare un dato ci sono varietà che hanno indici di crescita percentuali di crescita che sono del 30 40 50% inferiori rispetto ad altre varietà vuol dire che io le posso tagliare una volta sì una volta no con le stesse qualità ci sono varietà che hanno un'efficienza dell'utilizzo dell'azoto per esempio per cui io lo si vede chiaramente noi ci sono delle varietà che gestite con 10 grammi di azoto all'anno si comportano esattamente come si comporterebbero con 20 grammi di azoto all'anno il che vuol dire che io posso tranquillamente dimezzare la dose di azoto senza creare alcun tipo di problema alla qualità del prato quindi torno all'inizio bisogna scegliere bene che cosa si va a seminare interessantissimo quindi vuol dire che in futuro possiamo immaginarci ampie aree a prato senza macchine questo è troppo questo è troppo e non me ne vogliono tutti i nostri insercizionisti però insomma diciamo che si può tendere a quello in futuro diciamo che non c'è limite all'immaginazione no esatto non c'è limite esattamente Diego immagino ci sia ancora qualcosa perché ho intravisto poi non mi concentro tanto su quello lascio fare a te che sei bravissimo sì c'è ancora molto allora quest'ultimo intervento di Paolo Stefanoni mi coglie l'occasione per attaccarci un paio di domande lui ha parlato di varietà più che specie qui arrivano delle richieste di consigli a questo punto che quindi giriamo dalle specie alle varietà per realizzare o un parco pubblico nel sud Italia privo di impianto di irrigazione o anche per un prato di dry garden dove non è possibile irrigare quindi il tema del risparmio idrico e dell'acqua diventa fondamentale insomma bene da chi partiamo io direi che con queste tre domande arriviamo a mezzogiorno qua e quindi poi la finiremo lì ripartiamo da Riccardo io speravo con Paolo perché lui il sementiere ha ragione ha ragione ha ragione Paolo cominciamo da Paolo ma no questa è una domanda è una domanda troppo io posso parlare di varietà ovviamente perché comunque sono domande troppo specifiche e parlare di varietà così davanti a uno schermo è veramente una cosa che non si può fare chiaramente lì c'è la scelta allora sul prato sul parco urbano senza irrigazione al sud direi che non c'è altra risposta che parlare di macro termine secondo me poi la varietà se ne riparla però lì direi che non ci sono alternative il prato il giardino secco senza acqua ugualmente bisogna ragionare sulla sulla composizione del prato e sulla e sulla composizione varietà purtroppo bisogna ragionare sulle varietà e l'altra cosa importantissima da capire è un altro aspetto a cui forse aveva accennato inizialmente Riccardo non mi ricordo più su della resilienza le graminacee sono delle è una famiglia di specie che ha che sono veramente delle bestie se vogliamo nel senso che sono in grado di crescere quasi in tutti gli ambienti e di sopravvivere ma sopravvivere non vuol dire che rimangono sempre verde con la colorazione top per 12 mesi all'anno noi dobbiamo sfruttare nelle graminacee e quindi nel tappeto erboso la sua resilienza cioè la capacità di adattarsi all'ambiente andando quasi a riposo nei periodi critici per poi ripartire nei momenti migliori per loro e questa è una caratteristica tipica di alcune specie come per esempio la popratensis ci sono varietà di popratensis che resistono tranquillamente senza una goccia d'acqua durante tutta l'estate se coltivate in un certo modo e perché? perché queste tendono a fare un po' l'opposto cioè l'inverso di quello che fa la bermuda la bermuda va in dormienza durante l'inverno alcune varietà alcune specie sono in grado di andare quasi in dormienza durante l'estate per poi ripartire al massimo velocissime appena le condizioni tornano buone noi dobbiamo sfruttare questo per avere il prato e poterlo mantenere nelle condizioni ottimali quando ci serve perfetto sì come dire mantenerlo con bassi input e accettare il fatto che il loro diciamo valore ornamentale è diverso da quello che ci immaginiamo quello che dicevi tu prima in certi momenti sì certo certo bene Massimo vuoi aggiungere qualcosa? una cosa che ha già parlato di cui ha parlato Paolo se vengono mantenute nel corretto modo lui ha detto l'ha messo per inciso nel discorso e secondo me questo è anche quello che manca cioè conoscere la specie la varietà vuol dire anche saperla poi mantenere nel tempo e pensare come quella varietà o quella specie si comporterà nel tempo il fatto di progettare una cosa cui peccano tanti che progettano giardini e adesso qui mi tirerò tutte le pietre addosso e che non pensano come si evolverà il prato non dico le piante arbore perché quelle si conoscono meglio ma il prato nel tempo che cosa succederà al prato in base all'intensità manutentiva che io gli posso applicare cioè io devo già fin dall'inizio un po' conoscere che tipo di manutenzione farò a quel prato e quindi scegliere in questa funzione il prato giusto nel posto giusto tutto lì Benissimo Riccardo ho visto prima che eri apparso volevi aggiungere qualcosa anche tu che poi vorrei chiudere questo argomento a cappello per far capire che queste scelte si sono fatti degli esempi anche puntuali non voglio come dire portare l'acqua al nostro mulino di praticoltori però sono scelte effettivamente legate a una competenza tecnica di un certo tipo e mi rendo conto che l'ufficio tecnico comunale non possa averle queste competenze adesso lasciamo stare la presenza o l'assenza di periti agrari o di agronomi in tanti uffici comunali non voglio entrarci nel merito però la collaborazione è possibile la consulenza è possibile e probabilmente verrebbe ampiamente ripagata da delle scelte strategiche fatte da persone competenti che da lì a x anni possono dare ai prati urbani di quel comune una rilevanza diversa rispetto agli errori fatti pedissequamente negli anni precedenti cioè come ho detto è una filiera di capacità di competenze di conoscenze e nel rifacimento nella ristrutturazione di quelle famose linee guida dei capitolati tecnici credo che le competenze ci siano adesso non parlo dei presenti ma come per tutte le cose ci sono basta saperle sfruttare insomma sì temi questi che noi abbiamo sollevato indicato bene chiaramente anche nel manifesto famoso permettetevi di ripeterlo che trovate sul nostro sito e che vi invito a firmare perché è sempre una questione culturale un'evoluzione e quindi dobbiamo crederci e dobbiamo fare dei passi per poter evolvere in questo senso qualcuno in chat ha richiesto ancora una volta la possibilità di avere dei suggerimenti di titoli di libri da cui attingere io posso semplicemente dire che noi indicheremo alcuni di questi se naturalmente i relatori vorranno indicarceli nella base dei commenti alla base della videoregistrazione che tra qualche giorno sarà presente sul nostro sito mi permetto anche di ricordare che tra le nostre free publications se andate sul nostro sito abbiamo una pubblicazione dedicata proprio ai prati che si chiama Transitioning Torfurass e che riporta una serie di interventi di prove in campo che sono state realizzate lo scorso anno presso il golf della Montecchia magari trovate anche qualcosa di interessante è in inglese però diciamo qualche spunto spunti interessanti ci sono senz'altro io adesso non so Diego se vuoi aggiungere ancora qualcosa è che siamo effettivamente alle 12 non vorrei andare troppo oltre dimmi tu no dimmi tu nel senso che qui di domande chiaramente ce ne sono tante ce ne sono altre vediamo se una brevissima si chiedeva dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni se ci sono un po' o dei dati per sapere in che percentuale che fetta delle pubbliche amministrazioni richiedono una progettazione differenziata dei prati se è una domanda a cui è possibile rispondere io se posso aggiungere una cosa poi naturalmente risponderanno i nostri relatori noi che ci occupiamo di comunicazione di informazione questo dato al momento non l'abbiamo spero lo avremo perché come ho già accennato in uno dei precedenti tavoli vogliamo dare vita ad una nuova iniziativa che è molto legata alla gestione del verde pubblico e naturalmente anche tutta la questione dei capitolati eccetera eccetera quindi penso che quella domanda potrà ottenere una risposta però magari Massimo piuttosto che Riccardo piuttosto che Paolo hanno un'idea se l'avete benvenga io no non saprei non saprei dare delle valutazioni da questo punto di vista non ho la propria idea no nemmeno io ho numeri ho solo delle sensazioni la sensazione è che qualcosa sta cambiando rispetto al baratro di alcuni anni fa in cui si vedevano i famosi capitolati copia e incolla che raccontava Paolo qualche miglioramento io così ma in modo diciamo del tutto sensazione ripeto non numerico io lo sto vedendo ci sono alcune amministrazioni che si stanno muovendo nel senso di quello che stiamo dicendo noi quindi ragionando sulla differenziazione migliorando gli aspetti compositivi dei miscugli utilizzati per gli impianti insomma ci sono piccoli segnali di vita bene direi che queste sono le parole migliori per concludere l'incontro sempre che Paolo non voglia aggiungere qualcosa anche lui par condicio diciamo che non ho una platea così ampia da poter dare dei numeri posso anch'io dare una sensazione la mia sensazione è che forse qualcosina sta cambiando ma molto molto lentamente c'è qualche qualche tecnico illuminato che si informa però se no per la maggior parte la cosa la linea guida è il prezzo siamo sempre lì speriamo che cambi qualcosa di più prossimamente non troppo in là a breve allora ricordo alla platea che chi desidera i crediti formativi o gli attestati di partecipazione cortesemente mandi la richiesta nel pomeriggio per questioni organizzative nel caso dei crediti formativi specificando nome cognome codice fiscale ordine provinciale di appartenenza numero di iscrizione all'ordine mentre per l'attestato bastano il cognome e il nome desidero ringraziare di cuore i nostri esperti veramente mi è sembrato veramente molto interessante oggi questo tavolo molto bello e naturalmente tutti i professionisti che si sono collegati e che ci hanno dedicato il loro tempo vi ricordo che la videoregistrazione sarà disponibile tra qualche giorno sul nostro canale youtube digitando il vero editoriale e vi do appuntamento venerdì 5 giugno con il tavolo numero 8 sul tema la fruizione delle aree verdi non perdetelo perché si parlerà tra il resto molto di progettazione delle aree verdi di fonsi di fonsi di fonsi di fonsi di fonsi di fonsi Grazie a tutti